Salve amici, ho trovato un'applicazione di Trigger Trap gratuita, l'ho installata e voglio vedere innanzitutto cosa esce dal jack audio per vedere se è compatibile con il Trigger Trap che avevamo visto in un altro nel precedente video. In ogni caso ho disegnato un circuito che sicuramente funziona con qualunque tipo di Trigger Trap e qualunque tipo di cellulare perché magari un cellulare può avere una tensione di uscita più o meno alta rispetto agli altri. Questa applicazione, ripeto è un'applicazione qualunque che ho trovato, funziona in questo modo, ha diverse tipologie di scatti, per esempio la remote è semplice, shutter e focus, premendo il tasto sul telefonino fa lo scatto e l'altro, la F, fa il fuoco. Ho collegato solamente un canale perché mi interessa sapere soltanto che tipologia di segnale esce dall'applicazione. Abbiamo quindi un'onda quadra, a differenza di quanto avevo pensato io nel precedente video in cui avevo utilizzato un'onda sinusoidale, è un'onda quadra e ha una frequenza di 500 Hz. Questo poco importa perché in realtà l'onda quadra poi nel fronte di salita e di discesa si comporta come se avesse una frequenza infinita, di ampiezza anche abbastanza elevata. Vediamo le altre funzioni, abbiamo una funzione in cui utilizza la luce come trigger, è impostato, qua ci fa vedere il valore corrente che sta leggendo il telefono, quindi sta utilizzando il sensore del cellulare, 350 circa. Ho impostato 90, al di sotto di 90, below 90, una volta, può essere impostato ripetuto, start. Ok, quindi abbiamo questa forma d'onda che è sempre la stessa, quindi c'è anche un timer, ho impostato per esempio dopo un secondo, lui deve tenere premuto il pulsante di scatto per due secondi, senza intervallo, lo fa soltanto una volta. Quindi nel momento in cui premo start, lui dopo un secondo, ok, fa uscire la sua forma d'onda e dopo due secondi rimuove il segnale. Ok, avendo capito che questo è il segnale con cui abbiamo a che fare, andiamo a vedere il circuito che ho realizzato e colleghiamo, questa volta invece del generatore di funzioni, direttamente il cellulare al circuito che ho realizzato. Allora, lo schema del circuito che ho realizzato è questo. In sostanza, ho utilizzato un moltiplicatore di tensione, quindi ho ripetuto la cella di duplicatore di tensione quattro volte, quindi abbiamo due, quattro, sei, otto diodi e otto condensatori. Ho anche aumentato la capacità dei condensatori a un microfarad invece di 0,1 microfarad e poi in uscita, alla base del transistor, ho utilizzato una resistenza leggermente più elevata da 2 kOhm invece di 1 kOhm. L'importante è che questi siano di odyshotky, che i condensatori siano in poliestere e il transistor abbia un guadagno di almeno 250 volte, quindi un HFE, lo trovate nel datasheet scritto come HFE, di almeno 250 volte. Quindi se utilizzate i BC546, 547 o 548, che siano almeno B oppure C. Ho duplicato nello schema le due uscite che vengono dal cellulare come destra e sinistra e fuoco e shutter per comandare le due tipologie che abbiamo sulla macchina fotografica. Ho aumentato la capacità dei condensatori perché ogni volta che noi duplichiamo la tensione la corrente diminuisce, motivo per cui è importante avere un transistor con un'alta HFE. Perché noi dobbiamo avere una corrente di base bassa in modo da avere un poco carico su questo moltiplicatore perché altrimenti il condensatore avrebbe il tempo di scaricarsi attraverso la base del transistor e la duplicazione non funzionerebbe più. Quindi questo è il motivo per cui ho aumentato le capacità ed ho scelto un transistor ad alto guadagno. I diodi ovviamente devono essere sciocchi perché hanno una bassa caduta di tensione. Non possiamo utilizzare i diodi al silicio comuni perché il segnale in uscita dal telefono è comparabile con la caduta di tensione di un diodi al silicio. Nello schema che vi ho fatto vedere è importante questo collegamento qui, guardate, questo, da questa che ho segnato GND, quindi è riferimento, deve arrivare fino all'uscita e quindi fino alla macchina fotografica. Altrimenti il transistor non avrebbe riferimento di tensione tra emitter e base. Un'altra cosa che faccio è questa volta di non utilizzare il LED per visualizzare l'uscita dal circuito moltiplicatore. Ah, ho dimenticato di dirvi, quindi questo è il moltiplicatore realizzato sulla breadboard. Ovviamente poi chi ha intenzione di farlo lo può costruire o su un circuito stampato oppure anche su quelle piastre multiforio e si possono saldare i vari componenti. Qui, come segnale simulato dalla macchina fotografica, ho sempre i miei 5V, quindi sarebbero il segnale TTL. Io ho inserito una resistenza da 10 Kilo Ohm, chiamata in gergo resistenza di pull up, per tenere alto il segnale sul collettore del transistor. Quindi questo punto è a 5V impostato e forzato dall'alimentatore. Quindi noi quando abbiamo che la tensione di collettore scende al di sotto di 0,8V, vuol dire che il transistor è andato in saturazione e quindi abbiamo una tensione di collettore-emettitore inferiore a 0,8V. Questo fa scattare il pulsante di fuoco sulla macchina fotografica. Quindi colleghiamo il cellulare qui. Allora, adesso quindi lo vediamo qui, il segnale dal transistor. La tensione collettore-emettitore del transistor la leggiamo sul tester. Impostiamo la funzione minimo-massimo e il minimo. Allora, quello che dovete guardare è la terza riga, 4,99V. Lo ripeto. Ok, avete visto che è scesa? 0,14V, 150mV. Quindi è sicuramente in piena saturazione il transistor. E quindi se ci fosse stata collegata la macchina fotografica avrebbe sicuramente commutato. Proviamo un altro, il light trigger, quello che avevamo visto anche prima. Resettiamo il tester in modo che lui possa fare un'altra lettura. Facciamo start. Aspetta per un segnale di trigger. Copro il sensore. Ok. Avete visto che ha commutato dopo un secondo ed è rimasto commutato per due secondi. Quindi l'applicazione sembra funzionare correttamente. Vediamo questa utilizzando il pulsante manuale. Effettivamente il circuito commuta e funziona anche con il cellulare. Quindi sono abbastanza confidente che con questo schema in cui la moltiplicazione del segnale di uscita dal cellulare è fatta e effettuata quattro volte. Sicuramente abbiamo la possibilità di mandare in saturazione il transistor e quindi far commutare il fuoco o lo shutter della macchina fotografica. Va bene amici. Per oggi è tutto. Grazie e alla prossima.